La semifinale di Ballando con le stelle 2018 Rossano Rubicondi. Dopo anni di corteggiamento, l'ex moglie dell'attuale presidente degli Stati Uniti ha accettato dunque l'invito di Millie Carlucci.La coppia affronterà una prova molto impegnativa a eseguire durante la diretta del programma una coreografia, realizzata per l'occasione, avendo avuto solo poche ore per memorizzarla. L'esibizione verrà poi valutata dal direttore di Di Più Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio che verrà assegnato a Ivana e Rubicondi sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.La carriera di Ivana Maria Zelnikova Il suo nome da nubile è iniziata in tv e nel mondo della moda, sino a virare in un percorso differente come stilista e poi come scrittrice. Nel 1977 il matrimonio con il Tycoon, da cui sono nati tre figli Donald Trumpi Lunga R, Ivanka Maria e Eric Friedrich. Il divorzio è arrivato nel 1992.Dupo un secondo matrimonio fallito, nel 2008 Ivana ha sposato l'ex modello e personaggio televisivo italiano Rossano Rubicondi, che sabato sera sarà con lei sulla pista dell'auditorium Rai del Foro Italico. Un apostrofo ospite d'eccezione dunque per la penultima serata dello show di Rai 1. Millie Carlucci sarà affiancata come sempre da Paolo Belli, mentre a bordo pista non mancherà la criminologa Roberta Bruzzone, pronta a svelare aspetti insoliti sulle personalità dei concorrenti. La giuria, capitanata da Caroline Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, sarà invece pronta a scatenarsi nelle valutazioni. L'ultima parola, però, spetterà al pubblico da casa.